Abbiamo iniziato male come si è visto, infatti è stato decisivo per la fine della partita infatti il secondo tempo abbiamo cercato di ingranare, però comunque la squadra avversaria ha cercato di tenere testa a noi e non vogliamo, abbiamo la prossima partita contro Aretusa, daremo il massimo per il contro e niente, cercheremo di dare il massimo a tutti Due anni che ricorriamo a questo obiettivo, speriamo finalmente quest'anno di farcelo abbiamo una rosa ampia, quindi siamo prepositive Sicuramente Casa Grande è una squadra forte, ci siamo preparate e ce le siamo studiate rispetto oggi un po' più di precisione sui tiri e concentrazione in difesa però penso che ce la possiamo fare, adesso ci rilassiamo, mettiamo un attimo la testa a posto e siamo pronti per domani